Siamo rimasti senza alcuna risposta. È un disastro totale. È vaccinate in Abruzzo appena l'1,56% della popolazione, pare a 22.000 persone. Noi vogliamo conoscere l'elenco dei centri vaccinali, il numero dell'esercito dei vaccinatori, il numero dei vaccini che sono in grado di essere somministrati ogni giorno, perché il nostro obiettivo è 2 milioni, ovvero target è 70% della popolazione, un milione per due volte perché c'è il richiamo 2 milioni di persone. Ecco perché siamo totalmente insoddisfatti. Ci hanno addirittura risposto che il piano lo stanno scrivendo. Davvero questo è un disastro. Denunciamo con forza e chiediamo immediatamente di arrivare in Consiglio regionale o in Commissione Salute ed avere il piano a disposizione di tutti i consiglieri perché dobbiamo rispondere ai cittadini.